eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi abbandoniamo temporaneamente call of duty black ops 4 il prossimo code del 2019 per parlare di un nuovo titolo arrivato sulla versione mobile stiamo parlando di call of duty legend of war gioco disponibile da alcuni giorni in versione alpha in australia nel play store quindi soltanto piattaforma android e alcuni giorni fa sbarcato anche in versione beta vi lascio qui sotto in descrizione il link di xdadevelopers.com dove potrete trovare la pk per provare la versione mobile beta su piattaforma android di questo call of duty legend of war dalle prime informazioni e dal trailer che state vedendo rilasciate proprio dal sito ufficiale possiamo capire subito che il gioco si baserà su multiplayer e zombies nel pvp sarà un 5 contro 5 e troveremo mappe iconiche della storia di call of duty tra cui nuketown crash e hijacked giocheremo nei panni di personaggi dell'universo di call of duty tra cui call of duty modern warfare e call of duty ghost ci saranno anche lanci di rifornimenti per personalizzare il nostro equipaggiamento per costruire il nostro soldato e cosa molto interessante è sviluppato dalla tencent azienda cinese che molti di voi sicuramente conosceranno perché ha lavorato anche a pubg mobile azienda che aveva annunciato la sua partnership alcuni mesi fa con activision che quindi porterà questo call of duty legend of war su piattaforma mobile quindi al momento è disponibile soltanto su piattaforma android in versione beta di cui potrete trovare la pk qui sotto nel link in descrizione non sappiamo ancora se sarà disponibile in futuro in italia ma soprattutto se arriverà anche su piattaforma ios vi farò sapere nei prossimi giorni ma intanto qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video con il tg informativo di call of duty